Giulia ammette che Andrea l'ha tradita, ecco la dura risposta dell'ex tronista Giulia Delellis botta sui social con un messaggio che svela il tradimento di Andrea Damante. Ecco la reazione dell'ex tronista di Uomini e Donne Una delle coppie più seguite di Cancelletto Uomini e Donne si è lasciata clamorosamente qualche settimana fa. Stiamo parlando di Cancelletto Andrea Damante e Cancelletto Giulia Delellis Tuttavia, però, in questi giorni la coppia oltre a ricevere tantissimi commenti all'interno dei loro profili ufficiali di Instagram da parte dei fans, Andrea e Giulia si sono scambiati dei messaggi a distanza svelando i problemi principali della fine del loro amore Scopriamo nel proseguo della news tutti i dettagli a riguardo questa intrecciata vicenda. Uomini e Donne News, Giulia sbotta su Instagram svelando il tradimento ricevuto da Andrea Nella giornata di ieri Giulia Delellis è uscita allo scoperto con un duro messaggio contro alcuni haters e il suo ormai ex fidanzato Andrea Damante Parlate tutti senza sapere nulla. Come se io non leggessi nulla. Non basta quello che mi ha fatto da chi pensavo mi amasse perdutamente? Sono anche io un cio di essere umano. Sono queste le dure parole dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giulia Delellis contro tutti quelle persone che l'hanno insultata non sapendo il vero motivo della fine con Damante. Tuttavia, però, la frase riferita ad Andrea non lascia scampo. Infatti, la bella ragazza romana con questa dichiarazione ha fatto capire a tutti che il tradimento da parte di Andrea cè stato. Andrea Damante risponde al messaggio di Giulia Delellis, questa è l'unica verità. Andrea Damante dopo il messaggio dell'ex fidanzata Giulia Delellis ha reso pubblica la sua verità tramite il suo profilo Instagram. Mi risulta davvero assurdo, che tutto questo materiale speculativo sia venuto fuori solo adesso. Non cadrò nel tranello mediatico, perché non mi è mai piaciuto rendere pubbliche le mie vicende private come è solito fare forse qualcun altro. Queste parole di Damante fanno capire che si distacca completamente dal post pubblicato dalla Delellis, aggiungendo però altri importanti dichiarazioni, per amore ho sempre lasciato stare, ma da oggi basta. Risponderò nelle sedi legali ad ogni diffamazione che mi verrà fatta. Godetevi la vostra vita, che io la mia me la sto già godendo senza dare troppo spettacolo. .